Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City in apertura, la nuova ordinanza firmata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, prime misure drastiche per il controllo dei contagi e la gestione della Movida. Abbiamo chiesto ai cittadini di Torre del Greco se sono preoccupati di fronte all'eventualità di un nuovo lockdown, per alcuni una scelta necessaria, per altri soltanto una misura drastica, malcontento anche dei commercianti di Torre del Greco che si dicono contrari ad una nuova possibile chiusura. Ci occupiamo poi di sanità. Nella lunga intervista al direttore sanitario aziendale dell'ASL i progetti per l'ospedale Maresca di Torre del Greco. In chiusura la festa di San Michele Arcangelo con la celebrazione di questa mattina nella chiesa di Via Diego Colamarino. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. De Luca ferma la Movida in Campania. È in pubblicazione l'ordinanza numero 75 firmata dal presidente Vincenzo De Luca che contiene drastiche misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020 bisognerà osservare queste regole. Lo svolgimento di feste e di ricevimenti è consentito esclusivamente nel rispetto del limite massimo di 20 partecipanti per ciascun evento. Esercizi commerciali come bar, ristoranti, pizzerie, pub non potranno vendere alcolici da sport dopo le ore 22. Resta consentita la somministrazione al banco o ai tavoli nel rispetto del distanziamento obbligatorio. Chi non potrà garantire dette misure dovrà chiudere per le ore 22. Sempre dalle ore 22 fino alle 6 del mattino è fatto divieto il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Resta sospesa l'attività di sagra e fiere, così come ribadito il divieto di salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la mascherina. Regole che vanno quindi ad incidere pesantemente sulla movida notturna. Negli ultimi giorni, infatti, si erano rilevate criticità soprattutto a Napoli, dove ogni notte i giovani erano tornati a riunirsi in molte zone della città ignorando completamente le norme anticontaggio. Preoccupazione dopo le ultime dichiarazioni del presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha minacciato una chiusura totale nel caso in cui i contagio aumentassero e le norme venissero ignorate dai cittadini. Abbiamo chiesto ai torresi se sono preoccupati per un possibile nuovo lockdown. Per alcune persone si tratta di una soluzione necessaria, data la disattenzione ed il mancato rispetto delle norme da parte di molti. Per altri, invece, sarebbe una scelta troppo drastica e dannosa per la nostra economia. Con l'aumento dei casi in Campania, il presidente della regione Campania ha minacciato un possibile lockdown. Cosa ne pensa? Io penso che la salute viene prima di tutto. Quindi è più preoccupata per la salute che per l'economia? L'economia è importante, però se non si osservano le norme, la legge, si arriva ai casi estremi. Secondo l'elettore la stanno rispettando la normativa? Beh, io vedo tutti quanti, quasi tutti quanti con le mascherine. Per me ci sarà una crisi proprio totale se andiamo tutti in lockdown. Quindi non dovrebbe farlo per te? Dovrebbe prendere provvedimenti, sì, però non drastici proprio, insomma. Penso che faccia bene, perché la gente, tutta la legge era. Secondo te, attori la stanno seguendo le norme? Il 50% no, il 50% sì. Siete preoccupati per il nuovo lockdown minacciato da De Luca? Ma no, preoccupati no. Se si prendono le dovute misure, non è caso di preoccuparsi. Poi, sei giorni, perché non vuoi ne capire, è una continuazione con questi festini, discoteche, all'aperto, tanti di loro che non portano neanche la mascherina. Portano anche la mascherina, allora certamente uno deve preoccuparsi. Però a me, come era prima, così è pure me, perché ho sempre rispettato il sistema di De Luca. Diciamo che questo lockdown a Torre dei Grechi si stanno comportando bene le persone, alcuni no, alcuni però, ma il resto tutto sommato ci stiamo comportando bene, che vada avanti sempre così e mettiamo le mascherine. Penso sia giusto, assolutamente, perché non si stanno rispettando le regole. E preoccupata per l'economia? Assolutamente sì, soprattutto per quello, soprattutto per quello, per l'economia, per i nostri giovani, per la scuola, perché già siamo messi male con l'istruzione. Quindi addirittura non andare a scuola e non cominciare ancora una scuola, addirittura non c'è un piano specifico per quanto riguarda banchi, mascherine, disinfezione e tutto. Sono preoccupata sì, ho due figli, quindi... I torresi come si stanno comportando per l'enorme anticontagio? Ma guarda, è a tratti, perché vedo che comunque a volte c'è quella cosa di paura, forse siamo presi dalla paura, allora subito attaccato con la mascherina. A volte c'è tanto menefreghismo, quindi è a tratti. Non c'è un piano specifico neanche su questa cosa, voglio dire, non ci sono controlli, non c'è niente. Lei è preoccupata per il coronavirus? Penso in modi sì, è già stato accorto però. De Luca ha minacciato e nel caso di un aumento dei contagi potrebbe addirittura chiudere la campania. Io penso che dipende sempre dai, come si dice, da adesso di questi positivi che ci saranno. Io fino adesso ci ho sempre creduto, mi sono sempre prevenita, mascherine, disinfettante. Però potremmo dire che ci sorge anche un dubbio. Cioè il governo, cioè di Luca, tu cosa stai facendo per questo Covid? Ci stai dando solo le mascherine? Cioè non è, allora, per i vaccini quelli là tradizionali, si ne parla a fine ottobre. Cioè cosa ci stai dando? Cioè quale prevenzione stai dando? Cioè non ci fai fare un sistema positivo a tutti i nostri medici generici? Solo chi va a scuola, chi lavora. No, ma io questo lo direi tutto all'Italia, tutto ci sta il governo. Come dobbiamo prevenire? Solo con le mascherine, disinfettante? I commercianti torresi non ci stanno. No a un nuovo lockdown. Questa mattina, alle telecamere di TV City, abbiamo raccolto le loro opinioni. Dalle parole emerge un certo malcontento per i mesi appena trascorsi, in cui lamentano il mancato supporto delle istituzioni. Sulla possibilità di un nuovo lockdown, i commercianti esprimono totale dissenso, invitando il governatore De Luca a trovare soluzioni alternative. Chiudere i negozi e fare il lockdown è la cosa più semplice da fare. Tanto a quelli a rimetterci siamo solo noi, tutto il commercio e tutte le attività. Purtroppo noi non possiamo subire un altro lockdown. Se il governatore De Luca decide una cosa del genere, deve sapere anche che cosa poi dopo risolvere la questione dell'area commerciale di tutto il Vesuviano. perché penso che secondo me un'altra chiusura porterà la chiusura totale di tutte le attività commerciali della Campania. Quindi lei da commerciante ha paura? Sì, ho paura. Non è che ho paura del virus o delle cose del genere, perché bene o male ci stiamo imparando, o bene abbiamo imparato a conviverci. Ho paura che si possa decidere un'altra chiusura e non so che cosa poi dopo possiamo fare per riprenderci. Noi abbiamo passato già tre mesi di inferno, senza essere aiutati e senza altro. Penso che sarà la nostra rovina se succederà di nuovo un lockdown. È una distruzione per noi. Come hai vissuto i mesi precedenti, quelli appunto del lockdown? Lo racconto, se ne è sentito tanto, che noi commercianti siamo stati malissimo. Se dovessi parlare col governatore De Luca, che soluzione proporresti in alternativa alla chiusura totale? Di stare, diciamo come stiamo vivendo adesso, stiamo attenti, mettiamo le mascherine, cavendo le nostre prevocazioni. Giù se non possiamo stare. Spero che non si faccia questo lockdown, perché già la situazione commerciale è molto, molto, diciamo, critica in questo periodo, dopo il lockdown di mesi fa. È stato un momento molto drammatico per i commercianti? Sicuramente, a livello economico, non so per quanti anni pagheremo le conseguenze. Cosa ne pensa del comportamento del cittadino torrese? Stiamo o stanno rispettando le regole? Sì, ma diciamo che secondo me i cittadini stanno facendo il loro dovere, perché io vedo che distanziamento, mascherine, eccetera. Quello che invece non rispettano sono i giovani che li vedo assembrati senza rispettare nessun tipo di, diciamo, precauzione. È una tragedia che se ci chiude, ci chiude per sempre. Questo è quello che penso. Restrizioni sì, però, cioè, se ci chiude totalmente non riapriamo. Cioè, sicuro non riapriamo. Come hai vissuto i mesi della chiusura, del lockdown da commerciante? Non è stato facile, soprattutto che le spese si accumulavano. Cioè, alla fine il proprietario vuole il fitto, lo Stato vuole le tasse. È una tragedia. Se dovesse esserci la necessità per la salute pubblica e per tutelare la nostra vita, di tutti noi comuni mortali, sì. Pensa che i cittadini torresi stiano rispettando le regole? Assolutamente no. Basta guardare vicino ad alcuni bar l'assembramento che ci sta. Come ha vissuto i mesi della chiusura, del lockdown da commerciante? Allora, da commerciante male, da persona fisica ancora peggio. Anche perché stavamo soli e mia moglie in casa e abbiamo una famiglia molto numerosa che era sparsa e che non potevamo vedere. Io penso che un secondo lockdown non ce lo possiamo permettere in nessun modo, sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista economico. Perché comunque le aziende sono molto molto in difficoltà, sia le più grosse che le piccole come noi dettaglianti. Noi dobbiamo prevenire, dobbiamo anche reprimere se è il caso, in maniera severa, però non possiamo permetterci un secondo lockdown, assolutamente. Da commerciante, da chi vive, ecco proprio il negozio, secondo lei come si stanno comportando i cittadini torresi? Stanno rispettando le regole? Allora, io credo che molte persone siano state molto mature per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi. Certamente c'è una piccola parte che deve essere sempre educata e richiamata, però io credo che con i dovuti controlli si possano anche modificare, correggere alcuni comportamenti sbagliati, come ad esempio degli assembramenti che ancora vedo all'esterno di bar, locali, ristoranti, eccetera. Però, grosso modo, io credo che la popolazione sia stata abbastanza responsabile e lo sia ancora. Qual è l'appello che faresti al presidente De Luca? I controlli e la repressione nei confronti di chi sbaglia, o dico comunque in difetto, è alla base di tutto. Però chiudere indistintamente, creare situazioni appunto di lockdown, secondo me in questo momento non è la soluzione più saggia. Ogni ospedale deve avere una sua specificità nell'ottica di una rete integrata. Questo è l'obiettivo dei vertici dell'ASL Napoli 3 Sud per ampliare l'offerta assistenziale. In particolare al Maresca di Torre del Greco da qualche settimana è partita una nuova riorganizzazione delle attività chirurgiche. Nella lunga intervista ai microfoni di TV City, il direttore sanitario aziendale Gaetano Donofrio illustra il nuovo percorso e i progetti dell'azienda per il futuro. L'ospedale di Torre del Greco, come io ho sostenuto col direttore generale anche nel passato, fa parte di una rete integrata. Io non mi stancherò mai di ripetere questa frase, che non è una frase pleonastica, ma è il senso profondo di individuare in ogni ospedale una sua specificità. Nell'ambito invece di quella che è la riorganizzazione dell'offerta sanitaria, su Torre del Greco ci sono due aspetti, uno contingente e uno strutturale. L'aspetto contingente è che avendo dovuto riaprire Bosco Tre Case come Covid Hospital, abbiamo inviato a Torre del Greco quelle attività, penso alla chirurgia, l'ortopedia, che stavano su Bosco Tre Case. Nel primo periodo, durante il lockdown, abbiamo sofferto, due al fatto che Bosco Tre Case ha chiuso, che l'unico pronto soccorso ortopedico era diventato Castellammare. Memori di questo, e avendo fatto una serie di valutazioni con il dottore Sannino, che non solo è primato di ortopedia, ma anche il direttore del dipartimento, e con i suoi collaboratori, nonché con il dottore Siani, direttore di Torre del Greco, e il dottore Marziani, responsabile del Covid Hospital di Bosco Tre Case, abbiamo ragionato nell'offrire una proposta differenziata. Per la qualcosa abbiamo allocato in Torre del Greco un letto ortopedico, abbiamo allocato un arco a C, abbiamo allocato quello che è una scialitica, che permette gli interventi ortopedici, che in questa fase sono quelli legati esclusivamente alla rispondenza dell'EA, che sono i livelli essenziali dell'assistenza, quindi per le fratture di femore nei ultrassanti a cinquenni. In una prospettiva, diciamo, di normalizzazione, quando Bosco Tre Case tornerà a non essere più un Covid Hospital, ma un ospedale normale, l'idea dell'amministrazione è di differenziare l'offerta. In che senso? A Bosco Tre Case, dove c'è anche una rianivazione, effettuare la traumatologia, sia ortopedica che chirurgica. A Torre del Greco, invece, per l'ambito ortopedico, effettuare la protessica, che è generalmente una chirurgia pulita, in cui gli eventi o le complicazioni sono alquanto rare. In questi giorni dovrebbe iniziare la progettazione, a Torre del Greco, di sei posti letto di subintensiva, che saranno allocati alle spalle del pronto soccorso. Al momento, per quanto riguarda gli interventi chirurgici, a Torre del Greco vengono fatti sia quelli d'urgenza che quelli di elezione? Sì, di fatto questo è. E tra le altre cose, già adesso l'area ortopedica chirurgica ha 16 posti letto. La logica è arrivata a 22 posti letto su quel ambito. In un tempo che speriamo breve, perché avendo da Soresa i progettisti potremmo, entro inizio dell'anno prossimo, avere l'opportunità di poter fare un nuovo reparto a fianco al blocco ortopedico, in modo da trasferire lì l'area chirurgica ortopedica, quindi a fianco al blocco, quindi con un percorso vicino allo zero. E l'area che attualmente abbiamo strutturato con i 16 più 6 posti letto, fa diventare riabitazione e lungodeggenza. Oltre agli interventi di chirurgia e di ortopedia, in questo momento vengono effettuati anche altri interventi di altre branche specialistiche? Sì, quelli di oculistica, dottore Verolino, e quelli di otorino. Per quanto riguarda invece il servizio di cardiologia, si parlava di un'implementazione con la possibilità di fare anche un H12 rispetto all'H6. Sì, noi abbiamo individuato due dei cardiologi di Bosco per il sottore del Greco. Una particolarmente esperta in quelle che sono i pacemaker, tant'è che è venuta, l'altra per fare un discorso su 12 ore. C'è un punto interrogativo che è legato all'attivazione del posti letto su Bosco Tre Case. Quindi questo rafforzamento dell'organico per quanto riguarda il servizio di cardiologia potrebbe essere solo temporaneo? Ma no, perché noi abbiamo bandito un concorso, quindi dipende dal numero di partecipanti e poi soprattutto di chi accetterà. Tornando al piano sanitario regionale e al successivo atto aziendale, a Torre del Greco sono previsti posti letto anche di oncologia e gastroenterologia. Che punto siamo? Allora voglio chiarire con molta terminazione. Oncologia sono posti letto in dei ospita. Il reparto di oncologia medica allo Stato non è ancora previsto, perché noi puntiamo su quelle che sono a dimensione, ribadisco di specificità, che sull'area medica vede un'area internistica, un'area di lungodeggenza e un'area riabilitativa. Per quanto riguarda la gastroenterologia, il discorso è analogo, ovvero sia di dei sargeri, di dei hospital, ma come posti letto ordinari in questa fase, anche perché le tecniche di gastroenterologia determinano che i posti letto ordinari possono tranquillamente essere appoggiati in area internistica, laddove siano necessari. Quindi a pieno regime l'ospedale di Torre del Greco quanti posti letto dovrebbe contare? In questa fase, l'arco dell'anno 2021, quello che potrei prevedere sono sei posti di subintensiva, che oggi non ci sono, ampliare il dei ospiti all'oncematologico, che c'è praticamente, determinare quello che è un reparto di medicina interna, di area chirurgica, che vuol dire chirurgia, ortopedia, con le blanche anche di oculistica e otorino, laddove è necessario, di un posto letto ordinario, dico laddove è necessario, perché oggi i DR e G sono in gran parte dei sargeri o addirittura di PAC. Non a caso, voi sapete che a Torre del Greco l'oculistica ha avviato anche i PAC, così come anche, diciamo, l'ortopedia. E d'altra parte, invece, fare un reparto di lungoleggenza e un reparto di abitazione. Oltre ai sei posti letto di subintensiva e all'implementazione dell'area ortopedica chirurgica, la specificità del presidio ospedaliero torrese sarà la riabilitazione da lungo degenza. Una messa di ringraziamento, celebrata dal parroco della Basilica di Santa Croce, Don Gesùel Lombardo, nella chiesa di San Michele. I fedeli si sono riuniti questa mattina, nel giorno della festa dedicata all'Arcangelo Michele, protettore della Polizia di Stato. La celebrazione è terminata con una benedizione rivolta a tutti i poliziotti d'Italia. Alle telecamere di Tifusiti, le parole del parroco Don Gesùel Lombardo. L'abbiamo celebrato come tradizione con i rappresentanti del locale commissariato di Polizia di Stato, che vedono in San Michele il loro patrono, il loro protettore. Nella messa ho appunto innanzitutto valorizzato, recuperato il ruolo degli uomini che svolgono il loro servizio nella Polizia di Stato. Anche loro sono i custodi, come gli Arcangeli, come San Michele, sono i custodi del bene pubblico, della salute delle persone, dei valori civili, dei valori umani, che per noi sono anche tanti valori cristiani. E poi in questa messa ho voluto ricordare anche tanti agenti che a livello nazionale, durante quest'anno, hanno dato la vita mentre facevano il loro lavoro, il loro dovere. Si prega anche per i poliziotti d'Italia e in particolare per gli agenti del commissariato di Torre del Greco, che a gennaio scorso ha recuperato la statua di San Giuseppe e il bambinello, che furono trafugate dal presepe durante le festività natalizie. Sì, infatti quest'anno c'è stata anche questa nota di gratitudine, che è stata messa in evidenza all'inizio della messa dal rettore di San Michele, Padre Angelo Annunziata, che è anche il cappellano del nostro ospedale maresca. Come tutti sappiamo dal presepe qui furono trafugate queste immagini di San Giuseppe e il bambinello e grazie all'indagine e all'impegno della Polizia di Stato furono ritrovate e restituite con grande gioia dei fedeli proprio qui all'Arciconfraternita di San Michele e Santissimo Sacramento. In occasione dell'evento è stata esposta la statua dell'Arcangelo Michele, recentemente restaurata. Quest'antica statua di San Michele, che si conserva qui, penso che sia del Settecento, di recente è stata restaurata e come avviene in questi casi, si vede come il tempo aveva sovrapposto tanti altri strati di colori, di pittura, anche i fumi delle cantele del tempo passato, per cui l'ottimo restauratore che sta lavorando qui l'ha riportata agli antichi splendori, riportando appunto in luce i colori originari. Tutto questo si fa sempre sotto la guida della sovrintendenza, perché le cose antiche non possiamo toccarle se non con l'ausilio e tutti i permessi della sovrintendenza, che anche qui per l'Arciconfraternita non sono mancati. Buona festa a tutti custoditi dai nostri Arcangeli.